Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Si è svolta questa sera la conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra il Comune di Voghera ed S. Lunga in merito al ripristino del teatro sociale. Per il sindaco Carlo Barbieri si tratta di un momento importantissimo, atteso dal 1986. Siamo riuniti, ha annunciato il sindaco, per sancire e comunicare alla città che insieme al nostro partner è stato concluso l'iter di convenzione attraverso il quale la società S. Lunga avvierà una transazione che permetterà di compiere il primo passo verso la riapertura del teatro sociale. S. Lunga, da sempre vicino alla cultura, ha manifestato la volontà di effettuare un'operazione che potesse servire alla città e noi abbiamo subito pensato al nostro teatro. Questo accordo ci permetterà di avere 2 milioni di euro che ci consentiranno in compartecipazione di andare su tavoli differenti, per esempio partecipare ai bandi con i quali cercare le risorse rimanenti per concludere l'operazione. Il sindaco ha infatti precisato che l'ammontare del progetto definitivo per il restauro completo è pari a 5 milioni di euro, ma Barbieri assicura che i progettisti ritengono di poter spendere un po' meno. Il taglio del nastro di un primo lotto è previsto entro Natale del 2016. Il dottor Bocchio di S. Lunga ha definito questa operazione laboriosa, ma semplificata da un'amministrazione amica e sensibile. Il clima di collaborazione che si è venuto a creare con la Giunta Barbieri ci ha permesso di rafforzare il legame della società con il territorio e la popolazione. Soddisfatta, e non potrebbe essere altrimenti, l'assessore alla cultura. Mi viene la pelle d'oca perché per la nostra città è un risultato molto importante, ha spiegato Marina Zaretti. Come associazione Amici del Teatro Sociale abbiamo svolto la prima assemblea questo pomeriggio e continueremo a seguire l'iter assicurandoci che il tutto venga svolto in modo trasparente. Ringrazio S. Lunga per aver ritenuto il nostro teatro un monumento eccezionale. Riaccendere le luci del teatro sarà un indotto importante per la città che potrà dare lavoro a molte persone. Si tratta di un primo gradino verso una ripresa importante ed il merito è soprattutto del sindaco a cui va il mio più grande ringraziamento. Il presidente di ASM Voghera si è detto felice della collaborazione tra l'azienda e l'amministrazione. Non è la nostra missione comprare palchi, ma l'abbiamo fatto volentieri anche se un po' ai limiti del nostro statuto. Poco prima del suo intervento Bariani ha tessuto le lodi di S. Lunga dichiarandosi un cliente affezionato. Spenta l'infuocata polemica relativa al parcheggio di Viale Montebello. Secondo alcune notizie trapelate nelle scorse settimane, S. Lunga avrebbe preteso la privatizzazione del posteggio. L'unica differenza, ha spiegato Barbieri, è che da oggi S. Lunga avrà l'utilizzo esclusivo del luogo di sosta che comunque esisteva già da prima, dato che è destinato al centro commerciale. Il regime del suolo del parcheggio è privato ed è già di S. Lunga, ha spiegato il dottor Bocchio, ma rimarrà comunque aperto al pubblico perché lo stabilisce la regione. Verranno cambiate alcune cose, ci sarà una tariffa per la sosta anche se i primi 90 minuti saranno gratuiti. La nostra società si farà carico della gestione e manutenzione dell'area.